Associazione di promozione sociale passo dopo passo della parrocchia Santa Maria dei Longobardi con il padriocino del comune di Novivelia con la partecipazione della Proloco di Novivelia e tutte le altre associazioni novesi organizza la quarta edizione Raffesta Rosca Oradieddo Presso l'ex abbazia dei cedestini Novivelia Venite a mangiare il prossimo anno, venite qua, che vi aspettiamo? Come l'anno scorso, ti vestiamo un sacco, vi aspettiamo qui per una buona... E' numerosi per una bella mangiata E' una mammeria Le serate saranno allietate da musica popolare Il ricavato sarà devoluto anche quest'anno per continuare le opere di restauro nella nostra parrocchia E' buonissimo, venite lo assaggiare! Dal 18 al 20 luglio 2014 a Novivelia Grazie 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 Grazie